E' stata presentata la coalizione costituita dalle principali rappresentanze degli agenti di commercio delle case mandanti, candidata alle prossime elezioni che si svolgeranno tra il 1 e il 14 aprile per il rinnovo della governanza dell'istituto. L'incontro si è svolto presso la Comcommercio di Cosenza. E' la prima volta in 80 anni che si arriva a questo passaggio, le disegnazioni prima erano fatte dalle parti sociali, questa volta siamo a elezioni globali, totali, 270 mila tra imprese e agenti andranno al voto, con un voto complicato perché è un voto elettronico, quindi Collegio Unico Nazionale è veramente un grande match per eleggere un nuovo Consiglio che porterà a essere sostanzialmente una costituente, e rinnovare l'ente in modo forte, impegnativo, portandolo al livello dei tempi attuali. All'incontro ha partecipato il coordinatore di Insieme per Enasarco, Gian Roberto Costa, segretario generale di Confcommercio Unione Milano, che ha illustrato i punti focali del programma. L'Assemblea è un momento di indirizzo, di valutazione delle strategie, di individuazione delle funzioni di controllo rispetto agli investimenti, quindi è un organo importante, elegge il Consiglio e il Consiglio eleggerà il Presidente che sarà l'organo finale di governance del sistema. Quest'anno saranno circa 280 mila fra agenti e imprenditori votanti chiamati a scegliere i vertici dell'Istituto, e la provincia di Cosenza sarà presente con una nutrita rappresentanza. La provincia di Cosenza conta un numero importante di agenti di commercio, quindi impegnati in attività di agenzia commerciale, per cui rappresenta uno zoccolo duro nel panorama nazionale, sicuramente in quello calabrese rilevante, per determinare l'elezione e quindi chi sarà a guidare la fondazione Enasarco nel prossimo futuro. Auspichiamo che alla fine della tornata elettorale, se dimostriamo di aver saputo seminare e diffondere attraverso i nostri strumenti, attraverso la nostra confederazione, quello che è il fine da perseguire, auspichiamo in futuro di ricoprire un ruolo all'interno della fondazione.